buongiorno e bentornati nel mio canale io sono adriana e vi do il benvenuto se la prima volta che cliccate nel mio canale allora oggi registro da una location diversa perché sono a casa da mia mamma è lunedì 13 giugno e oggi volevo parlarvi del bonus vacanza perché ho appena avuto tutte le informazioni che mi servivano insomma infatti me le sono scritte alcune in un foglio per essere sicura di non dimenticare nulla allora come prima cosa per poter fare domanda per il bonus vacanza bisogna avere un inse entro i 40 mila euro poi il bonus va da un minimo di 150 euro a un massimo di 500 150 euro per una persona 300 euro per una coppia di due persone e 500 euro dalle tre persone in poi allora mi hanno spiegato praticamente che bisogna innanzitutto scaricare un'app che si chiama io che è praticamente il sistema pubblico di identità digitale che permette di accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione una volta scaricata appunto questa app viene fornito un codice di otto cifre una volta cliccato sulla voce ottieni il bonus si ottiene un bonus per capirci come fosse diciamo la barra di una tessera elettronica difatti quando poi verrà utilizzato nella struttura alberghiera verrà passato appunto questo questo codice allora e una volta scaricata l'app e quindi quando si è certi appunto di avere questa di avere questo bonus bisogna informarsi sulle strutture che possono essere alberghi hotel bed and breakfast campeggi che aderiscono all'iniziativa dell bonus vacanza quindi si può utilizzare il sito bonus vacanze italy hotels punto it per verificare appunto se la struttura del luogo che scegliamo è d'accordo con l'utilizzo dei buoni praticamente io ho visitato il il sito e fanno inserire il nome della città dove si vuole andare e viene proprio fuori il nome dell'albergo per esempio con scritto accetta i bonus vacanza allora per capirsi come funzionano questi bonus allora facciamo caso che questa famiglia di tre persone spende 600 euro e ha un bonus di 500 viene fatto lo sconto dell'80 per cento di questo su questi 600 euro quindi andrà a pagare 400 euro i restanti 200 euro li deve mettere di tasca propria ma essendo che ha avuto appunto un bonus di 500 euro 400 li utilizza nel momento del pagamento della struttura i restanti 100 li recupera nella detrazione del 730 del 2021 quindi in qualche modo diciamo quei 100 euro li recupera e e basta a l'ultima cosa mi hanno detto bisogna appunto fare una fattura ben documentata quando si va appunto a a pagare quindi ricapitolando bisogna avere un ise al di sotto dei 40 mila euro bisogna scaricare la app io che è il sistema pubblico di identità digitale una volta che si è ottenuto il pin di otto cifre si può cliccare sulla voce ottieni bonus vacanza 3 una volta ottenuto il bonus che è appunto elettronico ricordiamoci che è elettronico bisogna visitare il sito bonus vacanze italy hotels punto it e selezionare la struttura che permette l'utilizzo di questi buoni una volta scelta la struttura questa struttura che può essere appunto un hotel un campeggio un albergo un bed and breakfast e si contatta si diciamo la la conferma che si possono utilizzare il bonus pesa che è valido dal primo luglio al 31 12 2020 ecco sia questo frangente di tempo per poterlo utilizzare e basta io credo di avervi dato tutte le informazioni se per caso c'è qualcosa che non è chiaro lasciatemi un commentino io ora vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ciao